buongiorno sono le 4 del mattino e noi siamo alla seconda popata notturna perché l'abbiamo fatta un'intorno alle 1 le sentite che respira male perché anna si era tappato perché lucrezia era attaccato alla freddora è inevitabile e stanotte ho fatto io tutto il turno delle popate perché infatti siamo qua con la collina e le siamo rimasti in sala perché simone stava poco bene quindi riposati e perché sanno generalmente lui fa la popata dell'una o delle due dipende da che orari abbiamo così poi se la dorme tutta fino a che non va a lavorare io mi faccio quella più mattutina perché tanto poi recupero il sonno una volta che ho spedito tutto tra l'asilo e il lavoro fatica all'attare di notte lucrezia è stato peggio perché lì quando è uscita dall'ospedale aveva perso molto peso quindi doveva mangiare obbligatoriamente ogni due ore era lentissimo a mangiare mi ricordo che l'ho sfinita lei alla fine più veloce a mangiare si mangia anche delle belle quantità e si fa delle belle dormite anche tre o quattro ore di notte sinceramente le lascio stare anche se i peggiatri mi hanno detto di svegliarla anche se dorme perché essendo prematura ha bisogno di di mangiare punto però di notte sinceramente sto incominciando a lasciarla dormire se vuole con la mezz'oretta ora in più perché comunque la vedo che sta bene la peso cresce e poi dorme così bene che mi spiace veramente svegliarla anche perché poi ho notato in realtà che non si sveglia tra virgolette io la cambio ma lei dormicchia e il latte me ne prende meno perché comunque non si sveglia mai definitivamente e quindi sto cominciando a fare così comunque ora tengo un po su per evitare magari che rigurgiti e poi cerco nuovamente di mettermi a dormire anche perché poi alle 7 si sveglia lucrezia per andare all'asilo e ricominciamo una nuova giornata eccoci qua buongiorno allora distrutta da una notte lunghissima lunghissima insomma vabbè durante le notti in cui si allatta si dorme poco c'è poco da fare però sono stanca penso si vede dalla faccia mi sono preparata cioè devo ancora pettinarmi darmi una sistemata al viso mi è venuto anche un po di mardicola perché ho sentito freddo questa notte e andiamo dal pediatra ho richiesto l'assegnazione del pediatra me l'hanno data e questa mattina abbiamo la prima visita di controllo perdonate se non collego bene le parole ma veramente sono stanca penso si veda comunque e quindi niente adesso lei ha ripreso il latte sono le che ora è l'ho ripreso a 9 e mezzo ecco sì sono le 9 e tre quarti adesso vorrei ridormire però in realtà ho da fare perché finisco di stirare poi sistemo la cucina dispongo per il pranzo perché comunque il pediatra riuscirò alle 11 e 30 e simone lucrezia tornano a mezzogiorno mezzogiorno un quarto e quindi lui deve mandare perché deve tornare da lavoro lei ovviamente ha fame quando arriva quindi niente mi metto al lavoro adesso vado prima di tutto a stirare perché lei ha finito i bavaglini e lucrezia ha finito i pantaloni per andare all'asilo quindi da una stiratina alle loro cose soprattutto le mie di simone le piego e poi ritorno di qua a finire di sistemare e poi io la piccolina andiamo allora dalla pediatra ha dato tutto benissimo lei che sei adorme beata sta bene ha fatto in 20 giorni più di 500 grammi quindi ottimo e a parte la dermatite che è venuta da pannolino non ci sono altri problemi signora adesso mi ha dato una cremina vediamo se se si risolve se no ci risentiamo comunque non ci sono problemi sta benissimo poi abbiamo lucrezia che sta sperimentando con le tempere sta facendo nuovi colori abbiamo fatto l'arancione poi quello che colore è lilla brava c'è lilla poi c'è il viola abbiamo fatto diversi colori perché lei ha dormito dopo l'asilo e adesso giochiamo fra un po facciamo merenda io sto finendo di mettere a posto devo passare l'aspirapolvere va bene dopo andiamo dalla nonna e devo sistemare un pochino il salotto ma ci siamo non è tanto in disordine brava fai un disegno per la zia sara eh sì poi vado poi i panni considerato stamattina non ho sistemati devo pulire il bagno eh sì eh e quindi adesso sistemo tutto poi ho da fare oggi devo concentrarmi un attimo da fare alcune cose con i vari brava amore con le documentazioni di lavina devo sistemare tutte le varie cose e quindi mi metto a farle eh sì l'hai fatto tu questo bel lavorino l'asilo vero io un po sono sempre arrabbiata tra virgolette con l'asilo cioè gli danno un sacco di caramelle e schifezze che io proprio lì non do se non rarissimamente rarissimamente perché comunque non va bene abituarli a queste cose perché poi i bambini le chiedono in continuazione giustamente gli piacciono e quindi meglio di no non che sono contro però non deve essere questa qua cioè poi insomma le chiedono in continuo quindi va a finire che non che non pranzano non c'erano perché sono sazi di queste cose qua e all'asilo tutti i giorni gli riempiono lo zianetto con queste cose che poi lei giustamente a parte che stamattina gli hanno fatto mangiare di nuovo la cioccolata perché mi torno tutta sporca di cioccolata e comunque tutti i giorni riportano qualcosa una caramella un cioccolatino e poi lei giustamente li vuol mangiare perché gli hanno andati all'asilo e gli hanno andati le maestre quindi per lei è una cosa normale giusta anche bella no quindi a toglierla mi sento una strega però non mi piace più tanto perché secondo me è sbagliato dare tutte queste caramelle si è sbagliata la vine però ecco guardate lucrezia è andata subito a salutarla ciao piccola sei svegliata amore sì eccola vorrai latte che dici può darsi eh adesso ci guardiamo va bene qui insomma non sono tanto d'accordo però vabbè ci posso fare poco posso provare a dirglielo ma in realtà se lo dico solo io è inutile no ci vorrebbero tutti i genitori che lo dicessero con delicatezza ma non so se tutti la pensano come me comunque ora vado perché mi chiama il latte ma l'amore ecco l'amore vero l'amore di due sorelle hai visto la sorellina ti fa le carezzine si sta svegliando ti fa le coccole dalle un bacino brava siete bellissime noi abbiamo preso di nuovo il latte la bellissima popata della giornata praticamente si è fatta a due ore fa 90 ml lei ha 20 giorni di vita 90 ml di latte e adesso quindi con solo due ore di distanza che dovrebbe farne tre ma due ore se ne ripesa 60 e non potevo non darglielo perché proprio era una sirena impazzita che voleva assolutamente il latte ovviamente continua questo raffreddorino ora gli rifaccio i lavaggi tanto l'unica soluzione è quella ma ha detto la pediatra anche perché sono piccoli quindi non gli fai larusol non è meglio non darle chissà che per cui di proseguire con i lavaggi nasali che sono una tortura pazzesca noi siamo ancora qui con un'altra poppata adesso lei ha un po di colichette quindi qualche brontola volevo raccontarvi una cosa che mi ha lasciato scioccata questa mattina sono stata a fare le analisi per ricontrollare il ferro quindi ho fatto democromo e il mio farmaco quello per l'epilessia quindi ho fatto questi controlli e a parte che c'era non so erano tantissime persone c'era una sola infermiera che faceva i prelievi a parte questo praticamente ho atteso le mezza mattinata la signora che mi ha fatto il prelievo non indossare i guanti e già lì ok non si è disinfettata le mani ma soprattutto aveva delle unghie ripilanti cioè ovvero aveva lo sporco sotto le unghie che si vedeva era tanto sporco non era magari non so una macchiolina dovuta ad una faccenda di casa no come può capitare a volte e quindi dici non aveva fatto il tempo a pulire no aveva le unghie sporche si vedeva proprio la sporcizia sotto e lei mi ha fatto il prelievo in quella maniera che ho detto ora mi prendo un'altra infezione e cioè sono rimasta scioccata io poi non ho avuto non ho avuto il coraggio di dire niente perché sono quelle cose che magari possono anche offendere una persona anche se in realtà qui veniva messa a rischio l'igiene no insomma quindi anche la mia salute anche perché comunque tu vai a toccare non è insomma che mi fai una visita non so dove mi guardi un neo no ad esempio mi buchi quindi viene a contatto con il mio sangue e può gli agenti esterni possono venire a contatto con me sono rimasta veramente scioccata anche schifata alla fine no è una cosa inammissibile secondo me non c'è non c'è il minimo controllo sull'igiene perché ci sono comunque delle norme da rispettare all'interno di una struttura sanitaria non per via del covid ma perché ci sono norme di igiene per la sicurezza personale che vi devo dire tanto ho preso un'infezione anche in sala operatoria quindi vuol dire che insomma la pulizia un po' scarseggia a questo punto poteva capitare uguale per carità però mettendo insieme tutte queste cose stamattina sono rimasta schifata quindi io secondo me non so da quanto non se ne lavava le mani quindi non che non la disinfettate quello è il minimo dei problemi lei proprio non se ne lavava da molto tempo e comunque lunghe non se ne lavava non se ne puliva perché noi donne capita avendo le un po più lunghe che va qualcosa sotto cioè penso che capiti a tutti però lo puliamo non è che lo lasciamo lì a stagionare quindi insomma spero di non essermi preso un'altra infezione perché a questo punto come sentite ho già un gran raffreddore di nuovo sto poco bene perché ovviamente lucrezia andando all'asilo riporta tutto anche lei piccoli la respiravali come avevo detto perché c'è questo raffreddore che gira nuovamente in casa un po di mal di gola per fortuna solo questo perché febbre roba ancora odio ora l'ho detto vabbè ok lasciamo perdere niente questo volevo dirvi perché sono rimasta veramente scioccata schifata e tutto il resto e secondo me è abbastanza inammissibile però ora che fai dove brontoli con chi brontoli lasciamo perdere no oggi pomeriggio comunque se non capita altro io simone usciamo e porteremo con noi la vigna questa non so forse la lasciamo dalla nonna ed è la sua prima uscita perché lei non è mai uscita ancora essendo nata prematura essendo comunque piccolina essendo che è stato un tempo bruttissimo anche freddo da noi è sempre piovuto quindi comunque un po più fresco e non ci andava ovviamente di farla uscire a parte le visite pediatra e i vaccini all'ospedale queste cose qua e in realtà lei non è mai uscita in maniera ufficiale e credo sarà oggi la prima volta quindi siamo insomma siamo un po emozionati non c'è sempre quel nervosismo quando si porta la tua bimbo il tuo piccolo cucciolo nel mondo esterno per la prima volta c'è sempre quel po di nervosismo anche se ne la seconda quindi sono cose che uno magari ha già fatto già metabolizzato però ci sta perché la porti fuori dal suo mondo fatto solo di cocco le abbracci nella braccia della mamma del papà e la porti nel mondo esterno quindi c'è sempre quelle quelle sensazioni non paura però c'è questa sensazione un po come posso spiegarvelo cioè a voi mamma ovviamente papà c'è poco da spiegare perché l'avrete sicuramente provata e questa sensazione un po così di anche del fatto anche tra virgolette può essere un passaggio del tipo finora la nostra piccolina ora è andata nel mondo esterno è già grande no ok vabbè c'è questa cosa qua comunque oggi proviamo insomma